Torniamo a parlare di obesità, di chirurgia dell'obesità e qui in studio con noi il dottor Bettini, Dario Bettini, chirurgo generale del reparto di chirurgia endocrina dell'ospedale Morgagni di Forlì. Dottore, bentornato. Grazie. Torniamo a parlare di obesità perché, come sapete, siamo nell'anno nuovo e durante le festività solitamente si mangia di più e quindi quale migliore occasione per parlare di alimentazione corretta ma anche di dare qualche buon consiglio a chi invece ha bisogno di procedere con un intervento chirurgico. Dottore, intanto ricordiamo di che cosa si occupa il reparto di chirurgia endocrina, quali sono gli interventi che eseguite più spesso nel vostro reparto? Allora, noi oltre a eseguire interventi di chirurgia dell'obesità facciamo tutta la chirurgia delle ghiandole endocrine, quindi della tiroide, delle paratiroide che sono dietro, le ghiandole surrenaliche, di tumori strani neuroendocrini. Quindi abbiamo proprio una fetta molto particolare. Abbiamo iniziato proprio a fare questo tipo invece di chirurgia dell'obesità, che sembrerebbero degli ambiti così distanti, proprio perché il dottor Nizzoli, che è il nostro endocrinologo di Forlì, aveva avvertito questa necessità proprio per i pazienti diabetici di trovare una soluzione, visto che fra le varie soluzioni per la cura del diabete c'è appunto anche la chirurgia dell'obesità. Ci sono comunque molte patologie purtroppo legate all'obesità, che hanno dirette conseguenze poi sulla salute insomma del paziente. Assolutamente, il diabete l'ha appena detto, i tumori che forse nessuno questa cosa la sa, insomma un quarto dei tumori sono legati all'obesità, tutta una serie di malattie cardiovascolari, dall'ictus, l'infarto miocardico eccetera, e tutte le patologie da carico che sono importanti, perché sono invalidanti, non riuscire a avere sempre male alle ginocchia, alle anche alla schiena, è molto invalidante, vivere col dolore in maniera cronica è qualcosa che limita grandemente la vita. Poi chiaramente questi pazienti vivono male perché la società non li accoglie, perché la società non ha gli spazi, non si sale su un autobus, non c'è la sedia, quindi proprio hanno una qualità di vita scadente. Una qualità di vita inferiore, invece dottore siamo di fronte a una vera e propria epidemia globale, che si sta diffondendo un po' anche in Italia, perché si mangia di più, ce lo diceva lei, ce lo ricordava l'ultima volta che è stato qui in studio con noi, e purtroppo nascono problemi sanitari molto gravi. Sì, si mangia, è un problema che forse tendiamo un po' a minimizzare, pensiamo che sia un problema in casa d'altri, è un problema che abbiamo tutti, mangiamo molte quantità e anche la scelta che noi facciamo degli alimenti non è una scelta adeguata. Intanto si tende, spesso l'obeso, chi diventa obeso tende a non far colazione, e quindi concentra l'alimentazione in poche ore della giornata, magari fra il pranzo e la cena. Questo concentramento, questa concentrazione di alimenti solo in una piccola fetta della giornata, fa sì che in tutto il resto della giornata, quindi da cena al pranzo successivo, quindi per 18 ore, il nostro corpo senta che non ha cibo, e quindi innesca tutti dei sistemi che paradossalmente cercano di assorbire il più possibile, nel momento in cui uno va a mangiare, di assorbire il massimo, perché tutta la giornata uno sta a digiuno e mangia solo per 6 ore, quindi si innescano dei cortocircuiti metabolici che innescano questa cosa, quindi la prima cosa da fare, fare colazione sempre. E quindi si tende ad ingrassare, incide anche la qualità del cibo? Assolutamente, in passato si tendeva sempre a condannare tantissimo i grassi, oggi invece forse il maggiore imputato sono gli zuccheri, in particolare gli zuccheri semplici, quindi tutte le bibite dolci, ma purtroppo anche l'industria alimentare, quindi qui c'è un invito in una terra come quella romagnola, di brave e bravi cuochi a farsi il cibo da soli, ma con i tempi che ci sono oggi c'è sempre meno tempo per farlo, e quindi si prendono dei cibi industriali prefatti. Per migliorare il gusto del cibo, l'industria alimentare, non tutta, però mette dello zucchero, anche in un minestrone, quindi lei mangiandosi una busta di minestrone prefatto, ci mette due cucchiai di zucchero dentro, perché migliora il gusto, e quindi lei senza sapere, lei non pensa di mangiarci degli zuccheri, ho mangiato la verdura mi dicono, e invece si sono mangiati magari due cucchiai di zucchero, perché non lo sapevano, quindi questo è un problema, quindi lo zucchero oggi è diventato veramente uno dei principali motori del problema obesità, e spesso anche nel sud Italia, dove il problema obesità, ma anche nel sud America sono paesi che magari sono anche meno poveri, sono più poveri dal punto di vista economico, quindi hanno meno soldi, ma gli zuccheri spesso sono dei cibi anche a basso costo, e quindi spesso… Cibi spazzatura, è corretto a dire… Ma comunque anche nella tradizione, adesso mi viene in mente, sono napoletana per un altro, però ci sono tanti dolci veramente dolcissimi, molto carichi, che fanno parte della tradizione, quelli sono cibi estremamente dannosi per il nostro metabolismo, proprio per l'alto contenuto di zuccheri semplici, lo zucchero, quello bianco insomma, ok, che mettiamo nei dolci. Adesso dopo le feste sono un po' le lacrime di crocodrillo, però diciamo che se abbiamo un po' esagerato, adesso è ora di ripristinare l'equilibrio, no? Esatto, e quindi poi gli zuccheri sono fondamentali, non è che… però gli zuccheri non questi, della stessa famiglia, della stessa famiglia zuccheri appartengono sia a questi zuccheri semplici, lo zucchero che troviamo al bar per intendersi, ma il pane, la pasta, le patate, sono tutti invece zuccheri, quelli che chiamiamo noi complessi tecnicamente, che sono gli zuccheri che fanno meno male, perché anzi bisogna assumerli, perché vengono assorbiti lentamente, soprattutto se prendiamo sotto forma integrale, meno raffinato, quindi il pane integrale, eccetera, ha un'accessione più lenta dello zucchero nel sangue, questo è più bene al nostro corpo, fa meglio al nostro corpo, ok? Poi dottore, una cosa che incuriosisce molto, che accennava lei l'ultima volta che è stato qui con noi, c'è anche una dipendenza, diciamo, genetica, no? Nell'obesità, c'è proprio, c'è un legame tra genitori e figli. Sì, allora, ci sono degli studi interessanti, adesso è molto complicato, quando si parla di genetica bisognerebbe dire, bene, c'è il gene XYZ che determina questa malattia, non siamo in questa situazione, però una, per esempio, delle teorie che spiega perché l'obesità si è esplosa in maniera così importante negli ultimi 100 anni, è che nella storia dell'umanità, quindi dalla scimmia a oggi, abbiamo sempre vissuto in condizioni diverse, cioè poco cibo, grande difficoltà per procurarselo, quindi uomini cacciatori, donne raccogliette, molto movimento e ambienti di vita molto freddi, considerate che fino anche all'Ottocento nelle case c'erano 15 gradi, quindi pensate oggi stare 15 gradi in casa, ma chi ci sta? Invece negli ultimi 100 anni disponibilità di cibo enormi, attività fisica zero, sempre ci si muove sempre di più con sistemi meccanici, motorizzati, elettrici, piuttosto che andare in bicicletta o camminare, abbiamo delle case calde, perché l'ambiente è importante, perché di grassi ce n'è di vario tipo, per esempio vivere nei paesi nordici migliora la qualità del grasso, cioè un grasso che non è il grasso che tutti noi intendiamo, il grasso energetico, è un grasso che brucia, che fa calore, è un grasso che serve a produrre calore, nei paesi freddi chiaramente il corpo ne ha bisogno di più, perché il grasso noi lo consideriamo sempre in maniera, lo dispreziamo, il grasso è la principale sorgente di energia del nostro corpo, è la nostra benzina, è il nostro petrolio, è quello che ci fa caldi, perché il grasso, quello bruno, è quello che produce calore, e l'energia è quella che ci fa fare il movimento, ci fa ragionare, eccetera, quindi le più grandi, le prime espressioni della vita, che sono l'energia e il calore, un corpo umano, quando muore purtroppo diventa freddo, e non si muove più, ecco, il grasso perde la sua funzione, ma il grasso è proprio l'energia vitale del nostro corpo, ed è un sistema veramente molto raffinato, che ancora conosciamo, ancora anche molto poco, devo dire. Quindi non, diciamo, non tutto il grasso è un male, no? Assolutamente, consideri che c'è una quota di grasso che è definita essenziale, cioè se lei scende, quindi gli atleti, quelli olimpionici, se scendono al di sotto di un certo quantitativo di grasso, per esempio una donna in normo peso, deve avere almeno un quarto del suo peso in grasso per essere sana, ok? Gli atleti scendono, la quota scende, ma se si scende sotto il 4-5%, è rischioso per la salute. Ecco, e quindi invece, vediamo l'altro aspetto, quando è rischioso per la salute, quando è rischioso per la salute, essere troppo grassi? Quando invece di avere per le donne, questo 25-30%, per gli uomini è un po' di meno, perché gli uomini tendono a avere una massa magra un po' inferiore, quindi quando si sale molto di massa grassa, questo diventa una problematica, quindi bisogna sempre rimanere nel mezzo, un po' come il normo peso, è la situazione di peso ideale, in cui c'è maggiore aspettativa di vita, migliore qualità di vita, ma se uno diventa troppo magro, vive di meno e vive peggio, e se diventa troppo grasso, vive meno e vive peggio, questo si può anche trasferire sul discorso della massa grassa, quindi se uno c'è una massa giusta, vive bene, è in equilibrio, il metabolismo è corretto, se ne ha troppo poco, non ne ha troppo, si ammala. Quindi quando uno è vittima di una condizione estrema di obesità, può ricorrere alla chirurgia dell'obesità, lei ha fatto un escurso tra quello che sono le abitudini di oggi giorno e la nostra vita consumistica che ci porta anche un po' ad essere un po' tutti sovrappeso, però entrando nel merito invece della chirurgia dell'obesità, perché purtroppo ci sono delle persone in condizioni critiche, quindi con delle patologie, con delle esigenze particolari, che cosa si può fare? Quando si può ricorrere alla chirurgia bariatrica e quali sono le condizioni? Bisogna che effettivamente siano stati fatti per bene dei tentativi dietetici, quindi noi facciamo sempre una preparazione di questo tipo per verificare, sono pochi i pazienti che riescono a non evitare la chirurgia, ma non posso dire che io li ho portati tutti, ci sono dei pazienti che sono fortunatamente riusciti a perdere peso semplicemente riequilibrando l'alimentazione e facendo dell'attività fisica e questo io, anche se sono un chirurgo, il mio obiettivo non è fare l'intervento, il mio obiettivo è curare l'obesità, quindi niente in contrario, è chiaro che purtroppo sono una fetta piccola di pazienti, la maggior parte o magari ha un buon risultato iniziale e poi magari ritorna nell'obesità e quindi alla fine ci ricasca e alla fine lì operiamo, la maggior parte chiaramente lì operiamo. La volta scorsa avevamo parlato di questo intervento che trasformava lo stomaco in una manica, quindi in inglese si chiama sleeve, è la manica proprio di una camicia, un po' una manica vento se volete, diventa un tubulo lo stomaco, ci sono altri interventi, l'altro intervento che si fa per la maggiore, anche se oggi è caduto un po', è diventato un po' una seconda scelta rispetto appunto alla tubulizzazione dello stomaco, è il bypass gastrico che è un intervento che non asporta parti di stomaco come il precedente, ma rimpicciolisce moltissimo lo stomaco, diventa una specie di bicchierino piccolo di acqua e si attacca a questo stomacchino molto piccolo un ansio intestinale, quindi la si porta, qui l'intervento modifica il percorso che il cibo fa nell'intestino ed è un intervento molto molto efficace proprio nel paziente diabetico e soprattutto se il paziente ha un paziente che ha un grave reflusso spesso nello stomaco si accumula dell'acido e risale e ecco se ho un paziente pesante con un diabete importante magari un grande reflusso magari sono più portato a proporgli un bypass gastrico perché cerco con un intervento di risolvere i più problemi possibili sia il peso sia il discorso di diabete e il reflusso e vi devo dire il reflusso può essere anche molto invalidato è una malattia ormai quasi anche quella un'epidemia il reflusso ormai è diventato credo che il consumo di antiacidi in Emilia Romagna abbia dei costi ormai giganteschi è una problematica anche grossa probabilmente anche quella dipende dall'alimentazione effettivamente forse ci siamo accorti un po' in ritardo che facevamo degli errori alimentari oppure facciamo anche degli errori anche terapeutici oggi uno dei temi ne abbiamo parlato in un'altra occasione il discorso dei batteri intestinali noi tutti il famoso microbiota il famoso microbiota che significa che nel nostro corpo noi oltre ai nostri organi che conosciamo più o meno bene abbiamo uno strano organo che è composto da questi miriadi migliaia di miliardi di batteri il cui peso è pari a quello quasi di un fegato che hanno un contenuto di DNA e quindi di possibilità di fare tante cose dieci volte il nostro DNA del nostro corpo di tutte le nostre cellule quindi una sorta di organismo che vive con noi e che stiamo studiando e dal quale mi aspetto che nei prossimi anni effettivamente usciranno tante cose il microbiota dell'obeso è malato questo è stato già dimostrato è un microbiota impoverito ha meno specie ha meno variabilità genetica e anche lì non vi so spiegare il motivo facciamo un intervento di chirurgia bariatrica e il microbiota si trasforma e diventa sano quindi molto affascinante tutto questo aspetto tutto ancora oggetto di studio c'è caso che fra un 15 anni probabilmente capiremo che l'obesità dipende da un'errata alimentazione capiremo cos'è che facciamo che non va che facciamo di sbagliato e correggendolo eviteremo questa problematica per ora non ci siamo ancora riusciti è molto bello anche dottore che lei ci fa una specie di escorso su educazione alimentare tutte le volte che viene in effetti ci sono diversi interventi non restrittivi in base un po' a quello che è la situazione clinica del paziente esatto noi è chiaro che prima di decidere che cosa fare io devo conoscere l'anatomia del paziente insomma si fanno tutti una serie di studi prima di decidere quale procedura oggi le procedure che si fanno sono quasi cadute in disuso sono quelle che determinavano un malassorbimento cioè delle procedure in cui si faceva saltare al cibo una grossissima fetta di intestino quindi l'intestino in quel breve tratto non aveva la possibilità di assorbire tutte le calorie che arrivavano e quindi quello che se noi mangiavamo troppo lo eliminavamo senza assorbirlo quindi questi interventi hanno avuto una certa fortuna e devo dire anche fortuna della chirurgia italiana perché il chirurgo che l'ha inventato il professor Scopinaro di Genova ha effettivamente fatto scuola è un intervento che ha dato dei grossi però problemi metabolici cioè si rischiava di sostituire una malattia come l'obesità con una malattia da malnutrizione da malassorbimento quindi erano malati che poi diventavano fragili per altri aspetti ecco gli interventi che oggi facciamo sono molto più sicuri da questo punto di vista e questi interventi vengono eseguiti in laparoscopia lei diceva l'altra volta tutti o ci sono alcuni più invasivi guardi oggi io non mi ritengo vecchissimo però se lei pensa che io ho finito la specialità nel 2002 tutto quello che facevamo nel 2002 per cui ho studiato tutta la chirurgia aperta tagli grandi eccetera oggi non esiste più non esiste non facciamo più nulla questo per fortuna anche in chirurgia del colon anche in chirurgia oncologica oggi la chirurgia veramente è diventata un'altra cosa totalmente quindi molto più molto più analitica molto più precisa c'è molta tecnologia dietro c'è molto addestramento dietro ma c'è una riuscita degli interventi molto migliore le dicevamo anche l'altro giorno oggi questi interventi di chiusura dell'obesità noi li teniamo pochi giorni li prepariamo martedì giovedì dopo il pranzo vanno a casa quindi pensare se io dovevo pensare solo vent'anni fa di poter fare una cosa del genere avrei detto sì figurati invece effettivamente anche l'anestesia è molto migliorata il controllo del dolore è molto migliorato si fanno tutta una serie di iniezioni per bloccare proprio la trasmissione del dolore dove si produce quindi non arriva al cervello non arriva a danneggiare il dolore è un qualcosa che ritarda la ripresa se un paziente lo operi e al risveglio mi dice dottore ma sei sicuro di avermi operato io non sento niente non ho male è un problema che non sento dolore le chiedono sì perché pensano che non li ha operati e noi li mettiamo seduti il pomeriggio fanno l'intervento al mattino al pomeriggio sono già seduti possono mangiarsi il loro ghiacciolino il giorno dopo iniziano a mangiare dopo che tu hai resegato uno stomaco quindi hai tagliato uno stomaco l'hai ricucito eccetera pensare il giorno dopo di mangiarci sopra è una cosa che fino a un po' di tempo fa non ci pensavamo la chirurgia sta facendo passi da gigante e poi vedremo cosa succederà purtroppo il tempo è tiranno quindi io intanto ringrazio dottor Bettini per essere stato con noi l'aspettiamo come sempre dottore quando vuole qui in studio grazie anche a voi per l'attenzione come sempre vi ricordo la pagina di facebook e l'appuntamento si rinnova tra sette giorni arrivederci a presto grazie a tutti grazie a tutti